Giochiamo al gioco dell'equilibrista. L'obiettivo di questo gioco è migliorare la capacità sia di equilibrio ma anche di coordinazione degli arti inferiori. Per questo gioco hai bisogno o di una corda che viene posizionata a terra oppure puoi anche un nastro o un qualcosa di spesso una cimetta oppure puoi chiedere alla mamma e al papà se ti possono attaccare un po' di scotch di carta per terra in modo tale da non rovinare il pavimento e fare una linea bella dritta. Per questo gioco l'obiettivo è posizionare un piede alla volta bene in equilibrio proprio su questa linea. Per mantenere l'equilibrio puoi anche tenere entrambe le braccia bene sollevate. Puoi andare in avanti ma anche bene indietro. Appoggia bene tutte e due i piedi senza mai perdere l'equilibrio. Un altro gioco divertente per sfruttare già o il nastro che hai messo per terra o la corda è questo. Ti posizioni con tutte e due i piedi da un lato e insieme sposti avanti avanti poi torni dietro dietro avanti avanti dietro dietro avanti avanti dietro dietro senza mai calpestare la linea. E ora ritorniamo da dove avevamo iniziato. Ok vediamo se riesce a farlo più veloce di me.